Seguite subito in zona gran... Alla massimo... Ciao a tutti! Eccoci un nuovo video Questo è un video che io adoro, adoro, adoro Sono curiosissima, lo guardo tantissimo Lo guardo sui canali YouTube, lo guardo sulle pagine Facebook Sono veramente curiosa di vedere cosa avete ricevuto E quindi penso che sia un video carino da registrare Anche se lo fanno un po' tutti, ma mi piace tantissimo Dato che ho un po' le codine, vado un pochettino veloce E comunque ringrazio tantissimo tutti Ho avuto dei regali che mi sono piaciuti veramente tantissimo In realtà devo ancora scambiarmi qualche regalino con qualche mia amica Però poi so che se vado poi avanti non ha neanche senso farlo Il video massimo li potrò far vedere su Instagram Vi lascio qua sotto il mio profilo Instagram Allora, vado un po' orando con le cose che ho qui Vi faccio vedere Allora, ho ricevuto da un'amica di mia mamma Questo profumo che si chiama Cipria E mi piace... Allora, io adoro il color rosa Cipria Mi piace un sacco la confezione È un profumo floreale, dolce Non so di cosa sa per bene C'ho un fiore davanti Comunque mi piace un sacco E pulissimo Poi sapete che io adoro i profumi floreali dolci Perché avete visto cosa indosso Dalla... questa ve lo dico perché la conoscete E la amica, quella che avete sempre nei vlog con me Valeria, mi ha regalato il nuovo viaggio Il nuovo viaggio Magari il nuovo viaggio Non perché non vuole essere regalato Ma perché voglio di nuovo andare a fare qualche viaggetto Mi ha regalato questo libro di Fabio Volo Che è quello nuovo e tutta vita Non l'avevo ancora letto Sapevo che era uscito e non me l'avevo ancora comprato Quindi sono rimasta veramente, veramente contentissima Ciao Grazie, grazie mille Valeria E spero veramente di fare un altro viaggio insieme Come avete visto tutti gli altri vlog Un'altra amica di Amma mi ha regalato questo prodottino qua Che sembra che veramente Vi giuro che io ieri ho finito la crema per le mani Apro questa confezioncina qua Ed è crema per le mani Non potevo essere più felice Perché veramente l'ho finita proprio ieri Con la neutrogena con cui mi trovo un sacco bene Questo è il gel da portare in borsa Utilissimo Io sono sempre in giro Quindi il gel quello tipo a mochina E questa è la crema per le mani Sono tutte due di Ebrochet Sono un pensierino che veramente Senza neanche saperlo Veramente mi è utilissimo Uno dei regali che mi sto fatto da mamma E questa cosa che avevo chiesto io Che è un una hop Preso da Decadonna E' un una hop di quelli pesanti Per fare diciamo tipo ginastica in casa Lo volevo, volevo un hop perché è una cosa che mi è sempre piaciuta fare E dato che, oddio, quello leggero è praticamente inutile Invece questo è un pochettino più pesante E va montato E magari poi ve lo faccio vedere E vi dico magari anche come lo utilizzo Che cosa ci si faccio Se vi interessa Però volevo un sacco L'avevo vista una volta Quindi è stato un regalo molto 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 Gravato In questa confezione carinissima della Perlier Ho ricevuto un bagno schiuma al Java Che non so in realtà che odore ha Però è bellissimo Verde Verde non è verde come la cucina Ma è verde come il mio salotto Che adesso non potete vedere Ma forse in qualche foto di Instagram L'avete visto Comunque Questo bagno schiuma Che adesso non riesco a togliere Oddio Comunque è comodissimo Perché ha il dosatore Così evito di utilizzarne una quintalata Ogni volta che lo apro Perché quando ho le costiglie Io non mi regolo mai Quindi sfidissimo invece un sacco Sapete che io dell'erbolario Adoro i prodotti E questo è da parte di mia zia Ed è una crema Ai legni fruttati Io non conoscevo questa fragranza Ne conosco altre All'altro mi sono fatto un regalo bellissimo Adesso vi faccio vedere Questa È una crema Crema per il corpo Dall'odore Direi abbastanza delicato E niente Adesso Per chiuderla Mi è rimasta un po' in mano Bellissima I prodotti dell'erbolario Mi piacciono sempre Tantissimo A proposito Ve ne faccio vedere un altro regalo Che Ho amato Sono rimasta sconvolta Non sconvolta Veramente contentissima Perché è una cosa Che veramente volevo Ma forse non l'avevo mai detto E quindi A volte ti stupiscono Come le persone Lo possano sapere È vero Gli regali sono a volte Qualcosa di consumistico Però Quando una persona Veramente Scopre una cosa Che tu volevi Senza neanche Che tu glielo avessi detto Ok Forse qualche volta L'ho detto nei video Qua su youtube Però io Sapete che adoro L'odore del gelsomino E volevo Il profumo del gelsomino E quindi adesso Vi faccio vedere Ho ricevuto Questa fantastica Confezzancina Che io adoro Veramente Della collezione Gelsomino Di erbolario A parte quello Che c'è dentro C'è già Quando l'ho visto Ho detto Qualsiasi cosa sia L'ho meron Ed è Un set da viaggio Della linea Gelsomino Bellissimo A parte che c'ha Questa confezione Confezione Molto carina E dentro Ha Il profumo mini Il bagno schiuma Che è questo La crema corpo E la saporetta Ma io vi giuro Che amo Questo odore Lo amo tantissimo Lo amo Bellissimo E Non so Proprio Non me l'aspettavo E Mi sono stata Veramente Veramente Contenta Oddio Il pezzolino Se non mi piace L'odore È molto forte Infatti L'amica Che me l'ha regalato Mi ha detto Ma a me Faceva veramente Schifo Questo mi sarebbe piaciuto Ma a me Faceva veramente Schifo Comunque Lo metto via dopo Se no Faccio solo Clicca Poi Ecco Questo è stato Un mio Autoregalo Che poi magari Ve ne parlo Sono le spazzole Della tech Sono delle spazzole Abbastanza Costose E Sono fatte In Italia Sono interamente In legno E Diciamo che Me lo dovevo Tra virgolità Autoregalare Perché Per problemi I capelli Eccetera Magari Poi Ve ne parlerò Appena Passerà Questa fase Ho dovuto Prendere queste spazzole Sono abbastanza Care Le inizio a provare E poi Se vi interessa Vi faccio sapere Cosa ne penso Tante ragazze Su youtube le usano Quindi magari Vi faccio sapere Cosa ne penso io Altro regalo È questo paio Di jeans A vita alta Semplicissimi Diciamo che Il colore È proprio Plastico E semplicemente È a vita alta Mi piace Nonostante Conoscere ancora Cosa è vita alta Semplicissimi Belli 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 Ho ricevuto ancora Questo paio di jeans Qua Nero grigio Tutto 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 quanto Strappato Spero che Riusciate a vederla Avete È strappato lungo Tutta la gamba Questo non è un video Quindi magari Non ve li faccio vedere Indossati Se poi vi interessano Magari li faccio vedere Indossati in un video Magari Nel video dei salvi Non lo so Perché Io adoro quei video In cui si vedono indossate Le cose In ogni caso Questo è un regalo Mi piace Spero che mi siano Perché mi sembrano Un pochettino piccoli Spero di No Un regalo utilissimo Davvero che Volevo Altrimenti me lo sarei Prendere per i salvi Sono questi Leggin semplicissimi Neri Perché Perché penso Non sono l'unica Io che Quando non so cosa mettere Mi sono proprio così Leggin e poi Qualsiasi cosa so Però va bene Qualsiasi cosa Una cosa più elegante Una cosa più sportiva Una cosa Un maglione Ma sempre comunque bene Con un paio di bianco Un paio di qualsiasi Altre cose I leggin sono Sempre Sono un must have E sta in inverno Eccetera Però mi sembrano questi Un pochettino più spessi Perfetti Sono di Tegenis E niente Non potevo voler di più Ho ricevuto Le gocce di Collistar Per il corpo Volevo anche quelle Per il vito Ma poi magari Me le prenderò Ne ho sentito parlare Tanto 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 bene Questa è la confezione Semplicemente Non le ho ancora provate E sono le gocce Diciamo Autobronzanti Di cui sento sempre Parare molto 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 bene Altri due regalini Sono di questa linea Molto naturale Che è svedese Si chiama Estelle and Tees E sono un siero E un olio E sono per Una vella Abbastanza giovane Sono abbastanza leggeri Con prodotti Perché sono molto naturali E sono Diciamo Anti rughe Devo ancora provarli Hanno delle confezioni A parte già da fuori Penso che le vedete Bellissime Ma anche dentro Sono proprio Come al solito Riescate da fuori Eccole Sono stupende Sono bellissime Devo poi provarle Perché sono prodotti nuovi Ultra ultra naturali Penso che siano anche bio Anzi Se qualcuno Sta a leggere gli inci O mi sa dire Quali sono i prodotti Che non vanno bene Io li faccio leggere Così mi fate sapere Ma è proprio Il tipo di linea Che mi dicono Che sia così naturale Altro regalo Da Golota Come Sono È questa Confezione di cioccolatini Infatti ragazzi Meno male che ve lo sto facendo Già oggi I video dei regali Perché altrimenti Non li vedreste Come sapete già Sono ragazzi Un odore pazzesco Comunque sono tutti Carini così Ci sono ancora Tutti È veramente Una mission impossible Per me Veramente Comunque carinissima Poi io adoro Tutte le scatole Dei cioccolatini Di macarons Eccetera Quindi Cioè io so già Che in questa scatola Ci farò qualche cosa Per una freddolosa Come me Mi è stato regalato Questo diciamo Maglioncione Perché non è Né una giacca Né un magliotto Magliotto Maglioncino Perché arriva a tre quarti Ma di questi colori Boh Mi piace un sacco È molto particolare Diciamo E con questo Quello di jeans È perfetto Rosso Poi questo lilla E questo Che colore è? Beige Con questi pompon davanti Ecco Questo anche Va visto indossato Sicuramente non è È super elegante Ma bellissimo Ancora gli ultimi due regali Credo che siano qua E poi ho finito Questa è bellissima È una pelliccia finita Ovviamente Nera Con il cappuccio Ecco Magari questa Me la metto addosso adesso Ve la faccio vedere E finisco il video con la pelliccia Mi piace tantissimo Aspettate che me la metto Eccola No vabbè Mi piace un sacco A me mi piace Bella Semplice Ecco Con la pelliccia Faccio fatica Uscire solo con la pelliccia Però magari Qualche volta Per qualche certa particolare Si può fare E per finire Un super super regalo Bellissimo Poi vabbè Forse ve l'ho detto Sì ve l'ho detto Nel video Mi preparo con voi Che ogni anno Non è che mi scelgo la piazza Però alla fine Voglio sempre una piazza Per Natale Per Natale E alla fine Me l'ho messo un regalo Ed è la Big Wave Di Diva Allora la confezione È bellissima Stupenda E volevo proprio questa Allora l'anno scorso Se avete visto Il mio regolino Natale Ho preso quella Della De come si chiama Non mi viene in mente Comunque quella E questa Ha anche una piazza Ma più profonda E l'anno prima La giacca di Ma l'ho preso sempre Me le sono fatte a prendere Diciamo da mia mamma Quindi l'ho preso online Sempre a un prezzo Molto 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 basso Molto più basso Di quello che È il loro prezzo vero Vi faccio vedere Quest'ultimo regalo Bellissimo Stupendo Che io adoro E fa le piastre E fa le piastre E fa le onde diverse Da quell'altra Io non so Se potete vedere Veramente bene Magari ve lo faccio vedere In un video Se vi può interessare Allora È una linea professionale Quindi I prezzi Sono un pochettino più alte È rivistita 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 In Oldergan Oddio Tutte le piastre Comunque rovinano Poi i capelli Comunque Vedete È molto 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 profonda Come piastra Per fare le onde Quindi le fa un pochettino Più spigolose Come le volevo io Ed è carina Oddio A me non serviva Per fare il mosso Però è bella Nel senso che Va a diversi gradi Come le altre piastre Si fanno le onde Così magari Vedete qualche suggerimento Mia mamma Fate sapere Se vi trovate bene Se me lo consigliate O meno E niente Questi sono tutti i regali Natale Quelli che sono riuscita A raccimolare Per oggi E mettetevi I link Dei vostri video Perché voglio vedere I vostri video Cosa avete ricevuto Fatemi sapere Cosa avete ricevuto Se vi piacciono questi regali E niente Ci vediamo al prossimo video Un bacione a tutti Ancora buone feste E al prossimo video Ciao